E adesso io invece voglio fare una cosa, siccome ho letto l'altro ieri su Repubblica, che io adesso appunto sono vecchio, vado in pensione, c'era scritta questa cosa qua. E allora io mi immagino di qui a qualche minuto, con la copertina sulle gambe, davanti al camminetto, è vero, quei nipotini che mi girano per casa. E io, no, è vera sta cosa, perché mi viene un magone se ci penso a queste cose qua io. Perché è vero che ho 60 anni, ma se io levo tutto il tempo che ho aspettato i bagagli all'aeroporto ce ne ho 21, quindi voglio dire, ho tutta una vita davanti a me. Allora adesso io ho pensato, guarda che meraviglia, io mi riprendo così poi mi ricordo e lo faccio vedere agli altri e dico guarda un po' come succedevano queste cose. Fammi riprendere anche delle facce amiche qui sotto, che hanno contribuito mica poco a fare delle cose. Anche lassù in cima e anche laggiù in fuori, tutti, che meraviglia, qui zummo, che non è una brutta parola, se vuol dire, vedo, si sarebbe. Eccoli qua, bellissimo, anzi facciamo una cosa, adesso vi inquadro anch'io perché se no dicono era il concerto dei Ramazzotti. No, c'ero anch'io e eccoli là, fate finta di essere contenti. Che poi vi doppio, vai, 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 tutti, che meraviglia, bellissimo, davvero. Bellissimo, allora adesso io questa la metto qui, così poi si ricorda tutto. E adesso noi invece vogliamo fare una canzone che abbiamo scritto veramente tantissimi anni fa. Pensate, era Piccolo Facchinetti per cui parliamo proprio. Che ha fatto? Che ha fatto? Così. Ha detto bene perché di solito fate le altre mosse che non vi voglio fare. Dicevo, questa canzone racconta quello che ci è successo mediamente sempre. Da quando la mattina noi partiamo per andare a fare un concerto, un tournè praticamente, questo succedeva allora e succede ancora oggi, non è cambiato assolutamente niente. La canzone si chiamava e si chiama ancora, Pronto o buongiorno è la sveglia? Adesso noi vorremmo vedervi, tutti con le mani su perché facciamo questa cosa tutti insieme, vai tutti, così. Non è cambiato niente da allora, è solo i prezzi all'autogreen. Pronto o buongiorno è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Corazione per modo di dire, tutto in fretta bisogna partire, ci aspetta già un'altra città. L'auto si attende e pulita, e la coda decide chi guida. Voglio stare seduto davanti, che i chilometri oggi sono tanti. facciamo in pieno e pulita. Un sospiciale alla lista, un autografo per il barista. Cento euro, un prezzo alla frutta, un minuto per il caffè. Si parte, sull'autostrada del sole, conto sempre felice che ti amo. Ma io ti amo, che c'è la stradale, se ti ferma faccia pure natale. suave. Ema! Ema! Grazie a tutti